Che Parigi tenesse umere sarebbe una piccola bere, con questo incipite dialettale, sicuramente avete indovinato della regione di cui parliamo oggi. Parliamo della Puglia, questa frase che viene pronunciata dal noto, bravissimo comico Lino Banfi in uno dei suoi film, ma che viene tratta della tradizione popolare pugliese da un campanilismo europeo globale, prima ancora che esistesse il globalismo, che sta a significare che se Parigi avesse avuto il mare sarebbe come una piccola Bari, quindi Bari più importante di Parigi, anche col mare o senza mare. Ma detto questo, questo inizio di divagazione del dottor Di Vago, Giacinto di Pietrantonio, eccoci di nuovo a voi con miti e mitologia dell'arte, con le teste di ceramica di Ugo la Pietra e la sigla animata di Pinocchiesca di Danilo Sciorilli. Andiamo appunto a introdurre questo episodio, diciannovesimo episodio, penultimo episodio, non perché la Puglia sia la per l'ultima regione, perché è venuto così nell'ambito delle registrazioni. Così andiamo appunto a parlare della Puglia attraverso la testa di Ugo la Pietra, materiale ceramico, lo ripetere, e attraverso, partiremo subito con le simbologie che Ugo la Pietra ha inteso mettere questa pietra per raccontare insomma la Puglia che funziona ovviamente come sapete da incipit, da introduzione per quanto mi riguarda Puglia, Apulia, la Latina, oppure Pigia, alla Greca, nome che si perde ovviamente come tutti i nomi nella notte dei tempi. Ed ecco come la pietra che tra l'altro ha un legame particolare con la Puglia e con i suoi materiali, con i materiali di pietra tra l'altro, sembra un gioco di parole ma in realtà non lo è perché la Puglia oltre a essere una regione straordinaria su cui si lavorano tanti materiali, è una regione che possiede anche cave di pietra molto interessante come per esempio la pietra di Apricena, questo comune in provincia di Bari e in cui appunto lo scorso anno Ugo la Pietra ha fatto una scultura permanente nella piazza del del paese chiamata appunto dell'amministrazione proprio per celebrare questa importante questo importante materiale di questo comune e Ugo la Pietra appunto ha fatto l'opera che vedete ed è praticamente una scultura che si compone, è un blocco fatto di vari pezzi ma anche di varie tecniche e anche di varie formalizzazioni, come vedete sembra come una sorta di piccolo bosco, di piccola foresta ma dove è divisa in tre parti se vogliamo, ha sviluppo verticale, la parte bassa vedete che c'è diciamo una parte della materia, la pietra di Apricena è tutta scalpellata quindi come un omaggio proprio all'inizio con cui lo scalpellino, lo scalpellare che è il movimento e la tecnica con cui si lavora il marmo quindi un omaggio alla tradizione, agli scalpellini, agli artigiani, agli artisti che utilizzano questa tecnica, questo martellare, questo scalpellare per poter poi dare forma alla scultura, all'architettura insomma perché la materia pietra prenda una forma successiva e come vedete a salire ci sono le la base che diventano delle colonne perché diventano dei cilindri lisci e quindi è un omaggio già appunto alla da un lato all'architettura pre diciamo in cui la pietra venisse utilizzata per fare insomma delle delle architetture ma in cui invece la colonne era tronco come abbiamo già detto in altri in altri episodi ma era non solo tronco che costruiva l'architettura stessa ma era tronco che sorreggeva un'eventuale architettura anch'essa di legno perché era appunto l'architettura delle parafitte che reggeva in epoca neolitica diciamo le costruzioni, le case quindi un'architettura sopra sopra elevata e quindi e poi per finire infatti sopra queste colonne, questa serie di colonne o di tronchi come ne vogliamo chiamare prima tronchi poi colonne ecco che ci sono tutta una serie di piccole casette, le casette tipiche insomma di la pietra e che formano appunto come una piccola polis, un aggregato abitativo, un villaggio, una piccola città insomma e quindi ecco che questa scultura di la pietra racconta nella piazza di Apricena appunto è un omaggio sia al materiale, al lavoro, artigiana, all'arte, all'architettura, alla sua trasformazione e l'architettura che come sapete insomma insieme all'arte, insieme al design, insieme alle teorie estetiche sono il centro del lavoro appunto di Ugo la Pietra e che qua la troviamo subito nella sommità insomma della testa ecco che appunto troviamo l'architettura. Ecco ma prima di andare appunto a questa particolare architettura che avete riconosciuto ad essere i trulli, ritornando un attimo, rimanendo un attimo nell'idea della pietra, ecco che questa pietra sia di Apricena, la pietra di Tarani, le pietre salantine che sono servite per costruire le architetture più significative dell'abitare pugliese che va appunto da diciamo ciò che è l'origine insomma diciamo in qualche modo, un'altra origine dell'architettura, cioè quando l'uomo prende coscienza di prendere un materiale lapideo, quindi prendere litico, prendere un materiale litico, quindi una pietra che dorme adagiata naturalmente sul terreno e quindi gli fa combiere una rotazione di 90 gradi verso l'alto, verso il cielo e quindi la mette in piedi e quindi su questa idea di iniziare una costruzione verso l'alto e di iniziare un collegamento tra l'alto e il cielo e di interrogarsi e cominciare a connettersi, a creare delle connessioni tra la terra e il cosmo e in questo per esempio c'è un artista appunto pugliese che lavora su un'idea di arte antropologica che affonda anche le radici nei materiali, nelle materie della sua terra che si chiama appunto Antonio Paradiso, che come generazione è più o meno una generazione di Ugo la Pietra, che appunto una delle sue caratteristiche è quella di lavorare la pietra di Trani, la pietra della sua terra, della Puglia, lui abita a Milano, ma si divide tra Milano e la Puglia e anche un grande viaggiatore, esploratore, viaggiatore soprattutto nei deserti, soprattutto nei deserti africani ed ecco che le sue opere sono opere che appunto rappresentano o delle, per esempio, delle panchine a forma di uccello, quindi sono opere che possono essere anche praticate, che sono anche delle sedute, però hanno una forma zoomorfa, panchine zoomorfa a forma di uccello, quindi è un'idea di libertà, insomma, di seduta che però ispira, indica anche il volo, non ci sediamo ma per poter volare, per poter andare in cielo, oppure altre sculture a forma di sbozzate, di pietra sbozzata verticale che ricordano appunto i Menino di cui tra l'altro la Puglia è ricca, ce ne sono qualche centinaia, soprattutto tra Terlizzi e andando giù nel Salento, che appunto ci ricordano l'importanza che la cultura neolitica ha avuto per questa regione. Ed ecco quindi tra quest'idea dell'architettura, dell'arte, del lavoro e dell'artigianato tutto messo insieme, ecco che qui, tornando alla testa, ci è andata appunto all'idea dell'architettura, architettura che si manifesta in questo caso attraverso un'appunto delle architetture tipiche della Puglia che è appunto il trullo, il trullo di albero bello, ma non ci sono anche in altri posti, solo che albero bello sono maggiormente concentrati e questa architettura, potremmo dire un'architettura spontanea, è un'architettura agropastorale ed è un'architettura anche furba, nel senso che questa è un'architettura, intanto è un'architettura a secco, quindi sono pietre raccolte nel territorio, nell'intorno e quindi una sorta di autoproduzione, autocostruzione, autoprogettazione, con materiale che si trovano nell'intorno e che vengono raccolti e vengono impilati, come nella tecnica dei muri a secco, a fare queste forme particolari dove ha l'idea della circolarità, della linea curva, che è appunto come è la linea curva dell'albero, ma è la linea curva del recinto e ad essere centrale, non dimentichiamo che la Puglia è anche una delle regioni italiane in cui maggiormente si è espressa nel passato, ma ancora oggi, la transumanza, dall'Abruzzo, Molise e Puglia, c'è quest'idea della transumanza del percorso della pastorisa che, come appunto canta l'annunzio poi da Bruzzese ai pastori che scendono dai mondi e vanno verso il mare della terra d'Abruzzo, ma arrivando poi fino appunto alla Puglia dove vanno a svernare. Ed ecco questa architettura costruita con delle pietre a secco raccolto nell'intorno e poi con questa tipica copertura conica, quindi c'è un cilindro di base e un cono nella sommità. Però queste venivano fatte a secco anche per un'altra ragione, per una ragione che potevano essere facilmente smontate. Non era una cosa di tipo una questione di architettura, era una questione di per non pagare le tasse, nel senso che le tasse venivano messe, questo appunto parliamo nel passato, nel 400, nel 500, nel 600, insomma, venivano messe queste tasse, soprattutto appunto dagli angioini, la Puglia faceva parte del regnale di Sicilia, per l'abitazione, per la costruzione per l'abitazione. E loro cosa facevano? Quando sapevano che avevano delle vedette che avvistavano, insomma, che avvisavano l'arrivo degli esattori e loro molto velocemente smontavano questi tetti facendo rimanere solo la base. Quando loro arrivavano praticamente eravano come dei recindi con gli animali e quindi non potevano tassarli perché non erano delle case ma erano appunto dei recindi, degli stazzi per gli animali. Devo anche sottolineare che in Puglia abita Cosmolaera, in Puglia, ad Alberobello, in Puglia, ma precisamente ad Alberobello, abita Cosmolaera, un fotografo appunto straordinario che fa una fotografia di luce potente. Ecco, la fotografia di luce è sempre un controsenso perché è chiaro che la fotografia è fatta con la luce, ma la particolarità di questo artista, artista fotografo Cosmolaera è quella di utilizzare una luce sbiancante per cui le sue fotografie appaiono molto bianche, con un sole accecante, quasi fosse addirittura un disegno. È proprio ad esaltare la qualità di questa architettura di pietra, di questa pietra bianca, insomma, abbacinante, colpita dal sole, quindi della Puglia. Ma i trulli, che sono anche oltre che delle architetture di riparo, quindi delle abitazioni, ma poeticamente abita l'uomo, o il Derlin, ma noi sappiamo che l'uomo da sempre ha abitato poeticamente e cosmicamente, perché altrimenti non avrebbe fatto questa architettura così diversa, non avrebbe alzato in piedi il menhir di cui, dicevamo prima, la pietra dormiva, stava benissimo a terra e in questa osmosi tra terra, cielo, corpo, che è anch'esso stesso una sorta di menhir, è un'anatomia che è ovviamente una macchina anatomica che funziona in un certo modo, ma funziona anche psicologicamente, cosmicamente, nella relazione tra l'altro il basso, il cielo e la terra. E proprio sulla parte superiore, nella parte esterna dei trulli, come probabilmente sapete, molti dei trulli hanno dei simboli, hanno dei disegni fatte a calce bianca, oggi i trulli all'esterno sono tutti intonacati con la calce bianca, perché non c'è più la necessità di smontarli per non pagare le tasse. Ed ecco, il tetto, che è un tetto appunto, mentre il corpo diciamo è un corpo bianco, perché viene dipinto con la calce bianca, il tetto, la pietra viene lasciata al naturale che prende questo colore grigio che la pietra prende nel tempo, dove alla sommità addirittura c'è un pomo, una sfera, ma di questo parleremo anche più avanti. Ma sul tetto, molti di questi tetti hanno dei segni, hanno dei simboli fatti a calce, dei grandi simboli, e sono simboli di varie tipologie, sono simboli che appartengono all'arcaicità, alcuni appartengono al mondo della Magna Grecia, al mondo greco, per esempio alcuni simboli rappresentano Zeus, oppure alcuni simboli più arcaici rappresentano per esempio il sole, o altri simboli che sono simboli cristiani, come la croce, o simboli anche ebraici, come le candelabra alle sette braccia, insomma. Quindi sulla sommità del tetto, all'esterno come anche un segno di protezione, di augurio, di segnale, ecco che questi segni stanno ad aggiungere una simbolicità e una cosmicità in più all'architettura del trullo. Tant'è che per esempio un artista italiano con origini pugliesi, lui in realtà è nata a Pavia, è cresciuto in Lombardia e in parte è cresciuto anche in Puglia, perché appunto i genitori sono di origini pugliesi e lui va tutti gli anni, da sempre, una parte della sua vita la passa in Puglia. Tant'è che tanta sua arte ha a che fare appunto con elementi raccolti insomma che provengono insomma dalla terra di Puglia, come per esempio l'opera, un'opera degli anni 90 che era un grosso covone, è una grossa balla di Puglia, ma quelle balle di Puglia circolari con appoggiata una scala con delle luci, insomma anche quella della luce è un elemento, abbiamo già detto, molto particolare, molto significativo insomma di questa terra. Ed ecco che per esempio lo scorso anno quando abbiamo fatto la mostra che ho organizzato insieme a OVO, questo gruppo di design calabresi composta da Maurizio Orrico e Enrico Vulcano, abbiamo organizzato questa mostra Liberi Tutti, Liberi Dentro, cioè scusate, presso lo spazio di Rumor di Milano, durante il Salone del Mobilo, la settimana del design, abbiamo chiesto a vari artisti di progettare, di disegnarci dei piatti, tra cui anche la pietra stessa, insomma, Mendini, Jan Fabre, Medova Mazzei, insomma e tanti altri. E uno di questi era appunto Maria Ero, Maria Ero, cosa ha fatto? Ha preso i piatti, ci si è dato un progetto, dei piatti tipici pugliesi, quelli insomma che hanno il piatto chiaro, coloro un po' avorio, a cui appunto ha disegnato il disegno dei fiorellini blu, che è tipico delle ceramiche pugliesi, i fiorellini tipo a puntini, piccoli cerchietti e poi nel centro, questo è nei bordi, diciamo, del piatto, mentre nel centro ci ha dato dei disegni presi appunto dalle teste, dai tetti dei trulli, segni di cui appunto adesso abbiamo appena, insomma, accennato e quindi sono segni cosmologici, segni che riguardano questo legame tra il cielo e la terra di cui stiamo parlando, come per esempio noi possiamo vederlo se prendiamo un artista come Michele Zazza, che è uno degli artisti più famosi, dopo Pompino Pascale sicuramente l'artista più significativo, Pugliese, che ha avuto mostre dal San Pompidou al Mooma di New York e Documenta Castle, il Biennale di Venese, eccetera, che ha da sempre avuto un approccio all'opera in cui mette il suo corpo o il corpo anche di suoi congiunti in relazione appunto a degli elementi di cosmicità come il cielo, come sono le stelle, e quindi in quest'idea di mimesi e di relazione tra la terra e il cielo, lo stesso si può dire di Sara Ciraci, invece un artista molto più giovane, diciamo un artista che emerge verso la fine degli anni 90 al inizio del 2000, Michele Zazza è invece un artista che emerge negli anni 70 e che fa appunto un lavoro soprattutto con il video e la fotografia, la sala Ciraci e in cui gli elementi che lei utilizza nella rappresentazione insomma di queste sue opere sono elementi che vengono dallo spazio del cosmo e soprattutto anche dallo spazio alieno, cioè da esseri di altri mondi, quindi esseri di tipo soprannaturale. Questo per rimanere insomma a quest'idea di relazione tra l'arte e l'architettura in quest'idea di cosmicità, ma questa idea del trullo che dicevamo non è solo appunto di albero bello e che è stata ripresa anche nell'architettura contemporanea per esempio da Gaetano Pesce, artista design, architetto che abbiamo già parlato quando abbiamo parlato della Liguria perché appunto lui è un artista spezzino di La Spezia anche se vive a New York oramai da tantissimi anni e bene ha fatto per commissione di Caterina Tognon è una gallerista di Venezia che ospita anche gli artisti e tra l'altro all'interno diciamo non dentro la costruzione ma fuori diciamo nell'orto giardino in un albero Francesca Arena, artista di cui parleremo anche più avanti, giovane artista pugliese che risiede in Puglia anche se espone in tutto il mondo, ha fatto questa opera inserita dentro appunto un albero che è una sorta di scultura anche sonora, un elemento della comunicazione. Bene, nel 2008 Gaetano Pesce per commissione di Caterina Tognon, gallerista veneziana di origine bergamasca, ecco che realizza il pesce trullo che è un trullo che non ha la forma ovviamente dei trulli tipici che abbiamo visto qui ma ha una forma a tetto quadrato e ha un tipo di architettura di tipo zoomorfo e androfomorfo, sono quattro corpi quadrati dove però diciamo quadrati cubici, parallelepipedi, dove il parallelepipedo è il cubo quindi la forma contraria insomma a quella del trullo che è una forma essenzialmente circolare però la forma del cubo viene contraddetto, viene frammentata da una superficie rugosa come se fosse fatta di zola di terra ma in realtà è fatta di materiale plastico è tutto un quattro corpi di fabbrica che si reggono su una piattaforma di cemento con anche dei corpi specchianti, due corpi più piccoli specchianti che si riferiscono ai servizi i corpi principali che sono uno bianco, uno rosa che hanno appunto la facciata a forma divisa a forma di immagine insomma antropomorfa ed ecco insomma in questa idea dell'architettura che abbiamo ricostruito partendo insomma da questa idea che vediamo qui appunto nella sommità della testa della pietra dedica alla Puglia ecco possiamo dire che Gaetano Pesce nel fare il pesce trullo ha preso questa parte diciamo del corpo del trullo e non la parte più tipica, quella tradizionale che è quella circolare con il tetto a forma di cono ed ecco ma scendendo da questa testa vediamo che questa donna ha un fazzoletto in testa un fazzoletto tutto a fiori con fiori, foglie, si indovinano anche foglie di querce insomma se vogliamo ed è un fazzoletto tipico delle donne contadine pugliesi che una volta si utilizzava per ripararsi dal sole però vedete cioè non è un fazzoletto messo così insomma come buttato in testa ma c'è tutto una vedete un lavoro di messa in opera del fazzoletto un certo modo di mettere come dargli una forma come fosse una sorta di decorazione non è solo la decorazione del fazzoletto che riporta questi elementi naturali ma è anche il fazzoletto stesso come viene messo quasi come un turbante insomma se vogliamo fazzoletto che ovviamente ha una da un lato ha una caratteristica di come dire di protezione dal sole, di riparo ma anche di non solo di riparo e protezione dal sole ma anche di struttura nel senso che una volta appunto si portavano molte cose come l'acqua, come la legna si portava in testa per esempio e quindi la testa doveva essere protetta da un fazzoletto che veniva arrotolato come a formare una piccola cilindra, una piccola base oppure in questo modo qui e poi con sopra un altro elemento e questo diciamo è legato al lavoro quotidiano, alla vita quotidiana e poi c'erano i momenti di rottura in cui il fazzoletto ha un'importanza fondamentale i momenti di rottura sono i momenti anche della festa dove il fazzoletto viene comunque tolto dalla testa e questo lo vediamo nella taranta, nella pizzica, nella danza della taranta, nella pizzica del tarantismo abbiamo già appunto parlato quando abbiamo parlato della basilicata e magari non ci torniamo sopra di più per spiegarne il significato che appunto riguarda da un lato legato al fenomeno del tarantismo che è appunto una sorta di isteria psichica che veniva curata attraverso questa danza insomma forse è nata e l'altro l'aggiornamento oggi nella civiltà globale della taranta è praticamente la famosa notta della pizzica, c'è un festival a Melpignano che si tiene il 22 ottobre in cui appunto ci sono oramai ballerini anche professionisti ma la gente balla anche nella piazza insomma così più gruppi musicali e ballerini professionisti che fanno questa danza insomma della pizzica che è una danza anche di corteggiamento tra l'uomo e la donna e poi c'è un'altra forma con movimenti più lenti che si chiama la taranta delle spade in cui due uomini si fronteggiano muovendo le braccia e le mani a forma come se fossero delle spade, dei pugnali insomma così e mentre la pizzica, quella tradizionale, è quella appunto in cui donne e uomini si scatenano in questi balli e soprattutto la donna è quella che agisce in maniera più panica sul luogo del ballo in questo rapporto di osmosi tra terra e cielo e in cui ha appunto il fazzoletto che porta al collo che si toglie che viene fatto roteare un elemento centrale insomma della danza e anche insomma del corteggiamento come fosse addirittura un piumaggio che si stacca e si libra nell'aria insieme al corpo che si muove continuamente insomma in questo ballo sincopato in questo ballo tribale insomma così e questa, ed ecco abbiamo parlato della luce prima ed ecco questa luce che continua a tornare in queste notte della taranta ci sono come anche in tutte le feste popolari pugliesi soprattutto quelle religiose ma se qualcuno di voi ha visto come vediamo anche nell'immagine ci sono queste architetture di luci che sono architetture gigantesche e sono le luminarie in cui appunto la Puglia è maestra nel mondo tant'è che a Scorano si tiene anche il festival delle luminarie dove ci si confrontano maestri delle luminarie con queste architetture insomma straordinarie e che diventano anche un punto di riferimento, un punto di ispirazione per alcuni artisti pugliesi come appunto Pierluigi Calignano che Joseph Kosut, il grande artista concettuale americano chiamava il piccolo primi chiama il piccolo primi chiamava quando una volta abbiamo fatto un corso di presso la fondazione Ratti nel 1995 dove Kosut era il visiting professor e Calignano era uno dei giovani artisti che venivano al corso come studenti insomma al corso nella residenza di tre giorni e Kosut aveva soprannominato per il tipo di lavoro che Calignano proponeva per come si presentava, come ragionava l'aveva soprannominato, lo chiamava il piccolo Prini in riferenza appunto a Emilio Prini perché Emilio Prini e Gino De Domenici sono due artisti di riferimento per Calignano insomma come vedremo ed ecco Calignano che fa insomma questa serie di opere nel 2005 che presentò alla Galleria Antonio Colombo di Milano qua ne vediamo una versione la versione alcuni presentati in questa mostra Quali cose siamo? di Alessandro Vendini una mostra con quasi 800 oggetti provenienti da tutte le parti d'Italia una mostra sul design italiano che lui curò alla Trennale di Milano e in cui Calignano era invitato con ben due opere qui intravediamo anche delle altre opere insomma in questo allestimento una bottiglia Campari gigante per il festeggiamento dei 150 anni della Campari si intravedono una stube che ne abbiamo parlato già una stube di ceramica un dettaglio ne abbiamo già parlato per il Trentino si intravede un dipinto insomma alla fine che è un dipinto un ritratto di sozza snudo fatto da Sambonè e si intravede anche uno scheletro gigante di cui poi torneremo che è un'opera di Calignano di Piero Calignano ma in questo caso volevo parlare invece di queste ruote di queste forze di ruote che si chiamano appunto L-Ray che sta un po' per Laser Ray LSD Ray che sono appunto delle sculture di Piero Calignano che sono queste ruote è come se fossero degli occhi lisergici lui li chiama la droga dei poveri le LSD dei poveri li chiamava ironicamente in cui poi ci sono tutte queste strutture e luci delle lampadine delle luminari tipiche insomma della Puglia della sua regione che sono tipo quasi 3000 insomma elementi di lampadine ed ecco che quindi in questa circolarità che è anche la danza stessa di cui stavamo parlando come dire la danza della taranda è una danza appunto circolare nei movimenti dove lo strumento centrale insomma della taranda con l'altro è il violino e la chitarra ma quello più importante è quello che dà il ritmo e il tamburello e il tamburello ovviamente il tamburello è un oggetto originario è uno dei primi oggetti musicali strumenti musicali che l'uomo si costruisce o con le pelli insomma ma anche suonando un dronco battendo sulla pietra tant'è che diciamo il ritmo del tamburo è uno strumento di musica ma uno strumento di comunicazione non solo per le persone ma per le persone e gli dain in tantissime culture il tamburo è un tamburo sciamanico e in questo caso della taranda ovviamente il tamburo ha una funzione anche di sciamanesimo ed ecco che andiamo a scendere andiamo a continuare a spiegare attraverso questa testa di questa bella ragazza bella donna pugliese ed ecco che vediamo che in questo caso anche in questo caso la pietra ha fornito la testa di orecchini teniamo presente che tutte le teste che abbiamo visto gli orecchini ci sono solo su alcune su alcune teste e sono tutte le teste del sud una è quella del Molise che ha la testa ha gli orecchini a forma di campanella una è quella della Basilicata abbiamo visto che aveva gli orecchini a forma di tarallini fatte con i tarallini una è quella della Campania con gli orecchini con la faccia di pulcinello e con gli orecchini fatti con i cornetti no? sempre di ceramica ma mimare il corno di corallo porta fortuna eccetera e sono tutte come vedete regioni del sud Italia e tutti appartenenti al come si chiama il regno delle due Sicilie e l'altro appunto è la testa della Puglia sono solo queste quattro teste che la pietra dota di orecchini perché l'orecchino è un gioiello tipico del sud soprattutto diciamo nella modernità insomma nelle regioni del nord si è andata man mano perdendo negli elementi della tradizione mentre nel sud è rimasto in maniera sempre molto forte e soprattutto ha in in Puglia i famosi ori di Taranto di cui come parleremo gli orecchini sono veramente un elemento un gioiello centrale però la cosa interessante in questa testa è che a differenza delle altre teste di cui abbiamo detto prima la Basilicata Tarallini il Morise le Campanelle la Campania i Cornetti sono in tutti quegli altri casi questi altri tre casi tre regioni sono un paio di orecchini come sono gli orecchini normalmente gli orecchini si chiamano orecchini perché sono due insomma e sono quasi sempre uguali o comunque nella tradizione gli orecchini erano uguali era una coppia era un paio di orecchini e in questo caso invece vedete che gli orecchini sono spaiati perché uno qui a sinistra vediamo che abbiamo il gallo abbiamo un orecchino a forma di gallo che vi faccio vedere meglio forse vedete un orecchino a forma di gallo e in quest'altra parte abbiamo l'orecchino a forma di vedete una stella un sole insomma una luna e tante cose come vediamo ed ecco che in questa testa diciamo con cui stiamo parlando ciao Pinocchio saluto anche tu ecco girati bene che guardi bene ed ecco in questa testa e in questi orecchini che sono spaiati che sono due figurazioni diverse perché sono due come dire simbologie insomma diverse vedete questa è una testa molto simbolica come stavo dicendo e allora ecco il gallo il gallo che è un elemento che è un animale che rappresenta simbolicamente il giorno perché il gallo è quello che dà cantando ci sveglia e annuncia il giorno e quindi è un animale legato al sole un animale solare anche nella stessa cresta ha una forma solare insomma del gallo ed è un e quindi annuncia comunica e quindi è anche legato a mercurio come che mercurio appunto era il messaggero delle idee della comunicazione insomma così e anche un ovviamente un animale apotropaico insomma perché è un portafortuna e anche ovviamente legata alla fertilità alla fertilità quindi un animale che serve per augurare la buona vita una vita che continua una vita che si riproduce che si riproduce non solo sessualmente quindi insomma biologicamente ma che si riproduce giorno dopo giorno perché annuncia ogni giorno che un giorno nuovo è tornato insomma così via e poi appunto abbiamo di qua abbiamo detto la stella che ha 5 vede da 6 punte una stella ma che è anche un sole diciamo che è una stella perché normalmente il sole è giallo poi invece ha le punte dipinte di blu che è un'altra diciamo l'elemento tipico colore della ceramica tipica pugliese ma dall'altra parte è una stella ed è un sole ovviamente ed è anche una luna che c'è questa faccina insomma di solito quindi con questo blu notturno e quindi è sole luna insieme quindi maschio femmina e quindi anche qua è notte e giorno ed è animale benaugurante quindi c'è animale è elemento benaugurante è simbolo e poi è una è fatto a 6 triangoli no e ci sono 6 triangolini che si incontrano a formare insomma questi raggi e andando giù vedete abbiamo anche qua questo ricamo una forma tipica di artigianato e di come dire di artigianato ma anche di arte popolare insomma e dall'altro vedete al centro ha un fermaglio che è una civetta allora questa civetta che è anche esso un animale quindi molto importante per quando riguarda la simbolicità la relazione tra giorno e qui e anche tra giorno e notte tra positivo e negativo no tra cielo e terra insomma intanto tra cielo e terra perché ovviamente è un volatile quindi è un animale che appartiene al che appartiene all'aria e e poi civetta gufo barbagiani cioè sono animali uccelli simili ma anche molto diversi e anche simbolicamente sono molto molto diversi dipende insomma dalle culture ora la civetta o il gufo sono animali comunque legati alla notte abbiamo detto da un lato quindi legati alla morte no? legati alla notte legati alla morte possono essere legati in senso negativo o in senso positivo questo era già presso i sumeri che facevano della morte e dell'immortalità soprattutto vediamo appunto la saga di Gilgamesh un centro poetico e cosmico del del loro essere e così anche gli egisi che ovviamente insomma altro popolo che con la morte ha sempre avuto gli antichi egisi uno dei centri della loro della loro esistenza tant'è che per esempio Amat il dia della morte è rappresentato con una testa che alcuni dicono che sia testa di falco alcuni dicono che sia invece addirittura una testa di civetto una testa di gufo e l'anima in l'antica Egitto aveva la forma del del gufo della civetta che si vede anche in alcune rappresentazioni e però ecco appunto dicevamo negli egisi in Horus appunto l'anima che veniva appunto trapassata attraverso Horus aveva la rappresentazione la simbologia della civetta del gufo ma ecco però il gufo la civetta è legato anche all'intelligenza alla sapienza tant'è che per non arrivare poi insomma al dotto gufo popolare pop di Walt Disney ma prima ancora ovviamente nell'antica Grecia che è a fondamento di tanto gli animali avevano delle simbologie e avevano anche delle compagnie della rappresentazione degli dei insomma no e Atena la dea della sapienza appunto è rappresentata sempre con una civetta insomma sulla o comunque spesso con una civetta sulla sulla spalla proprio perché appunto la civetta è il simbolo dell'intelligenza il simbolo del sapere tant'è che la civetta non aveva solo un significato di abbondanza a livello diciamo di sapere filosofico insomma di pensiero ma anche a livello materiale tant'è che ci sono state coniate delle monete nell'antica Grecia che avevano e anche nella magna Grecia che avevano appunto come simbolo su un lato la civetta tant'è che c'è un modo di dire c'era un modo di dire che si che significava l'abbondanza la ricchezza perché si diceva appunto portare civetta ad Atene insomma per significare insomma questo e Roma 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 aveva invece un rapporto anche semplivalente con la civetta aveva un rapporto anche negativo legato appunto alla morte era un animale legato dalla stregoneria come si si evince come si legge nelle panfile insomma di Apuleo o venivano anche chiamate succhialambate come succhialuce succhia vita e i celti per esempio lo chiamavano uccello cadavere o per esempio negli antichi ebrei la civetta rappresentava Lilith che era la prima moglie di Abramo e che era appunto veniva indicato come un demone e così nell'induismo dove nelle Pachantra che sono le favole indiane Yama è il signore dei morti che appunto rappresenta dalla civetta ma dopo questa breve diciamo questa lunga introduzione che siamo partiti da questa testa da alcuni elementi che questa testa rappresenta però abbiamo tenuto sempre a dire un discorso riferito insomma alle origini ecco però la civetta bisogna anche come dire parlando della civetta e del suo valore insomma appunto del rapporto a fortuna che stavamo dicendo e il rapporto appunto a questo materiale della ceramica dobbiamo dire che appunto abbiamo citato in più casi già la questione della ceramica della 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 Puglia però abbiamo quasi sempre parlato di ceramica nei piatti insomma che sono appunto elementi le stoviglie di uso quotidiano anche se fatta da un artista per esempio in questo caso come irope ma di cui abbiamo citato però in realtà abbiamo parlato di vasi piatti insomma elementi legati allo quotidiano ma ci sono degli elementi che non sono apparentemente legati all'uso quotidiano nei termini diciamo di un design se vogliamo no quindi un piatto che serve per mangiare insomma così o un vaso per mettere dei fiori e così via ma per esempio c'è il pumo il pumo ed ecco per tornare insomma a questi pomelli queste sfere che ci sono sui sui trulli che non sono dei propri pumi perché il pumo ha una forma un po' ovale ha una forma un po' ovale tridimensionale ed è dentro sembra ovviamente fatto in ceramica delle foglioline due o tre foglioline e quindi è come fosse una gemma che sta per germogliare no una gemma che sta per germogliare e quindi è questo oggetto di ceramica che ha una funzione ben augurante anch'esso di fertilità di buona di buona fortuna e ce ne sono alcune di questi pumi che sono invece fatti non in solo come forma di germoglio ma come anche forma dove il germoglio diventa alla fine una civetta e quindi ecco che questo oggetto che ora si continua a fare ovviamente ha una funzione ben augurante oggi è un oggetto decorativo ma all'inizio aveva la funzione ben augurante che veniva messa sui balconi quindi ha protezione anche dell'esterno un po' come i simboli dipindi su i tetti dei i tetti dei trulli e dimentichiamo e non dimentichiamo che anche le teste di Caltagirone da cui la pietra è partita che queste sono teste di Caltagirone ripetiamo nacquero da una leggenda da una mitologia in cui la testa di un moro tagliata dalla amata che si era sentita abbandonata trasformata in un vaso e veniva messo appunto sopra il balcone con della terra e con del piandato del basilico che nacque insomma così poi rigoglioso qui non c'è non ha la forma di vaso è un pomo è chiuso però la fertilità è simbolizzata insomma dalle foglioline dal gufo insomma è così via origini origini in tutto questo discorso di cosmicità di originalità originalità terra cielo mare ecco che la Puglia si distingue per origini si distingue per origini nel senso che nella piana di Altamura sono state trovate dei reperti preistorici molto importanti intanto tipo circa 30.000 70.000 orme di dinosauro uno dei più grandi parchi insomma di orme di dinosauro al mondo poi risalenti a 7-8 milioni di anni fa poi risalenti a 250.000 anni fa uno dei più antichi almeno europei forse il più antico europeo scheletro del umano nell'uomo di Altamura questo appunto nell'uomo di Altamura e nella Ostuni che abbiamo citato appunto a proposito del precertrullo di Gaetano Pesce che si trova appunto nella campagna di Ostuni in provincia di Brindisi che è stata trovata quella che viene chiamata la donna di Ostuni o la madre di Ostuni la madre di Ostuni perché è uno scheletro di 30.000 anni fa molto più giovane insomma 30-40.000 anni fa molto più giovane ovviamente molto più recente dell'uomo di Altamura che conta 250.000 anni fa ma è uno scheletro molto particolare perché è uno scheletro di donna con un feto con un feto e quindi con un bambino ecco perché si chiama appunto la madre di Ostuni ed ecco che questo scheletro scheletro di uomo scheletro di donna ma allora a questo punto perché no scheletro di divinità che appunto l'opera d'arte che abbiamo già vista che adesso di Piero Calignano uno scheletro alto tipo 7 metri 7 metri e mezzo fatto in legno una scultura con questo scheletro che l'artista che ha chiamato opera che ha chiamato realizzato nel 2005 che ha chiamato come sopra ha intitolato come sopra e che viene presentato appoggiato di spalle con la faccia in un angolo come fosse messo in punizione quando i bambini si mettono vengono messi in castigo ed ecco che questo scheletro fa parte di questa diciamo linea della simbologia della simbologia reale e cosmica perché poi alla fine il cioè se non ci sono dei processi di imbalsamazione quindi non intervengono dei processi diciamo umani per conservare un corpo umano l'unica parte che rimane per così tantissimi secoli è appunto lo scheletro quella che rimane di tutti noi quella che non ci facciamo cremare quando moriamo alla fine col tempo col tempo appunto rimandano gli scheletri scheletri che hanno una funzione appunto importante non solo non tanto perché è la struttura che ci regge no ma è anche perché dalla costola ritorniamo quindi da un osso viene creata viene creata la donna e quindi in questa madre invece che crea il figlio c'è questo passaggio insomma in questa simbologia religiosa insomma se vogliamo ma lo scheletro è quello che appunto noi ritroviamo che rimane più tempo e anche diciamo la parte del corpo che è uguale per tutti cioè nel senso tutte le razze hanno lo scheletro uguale tutti dello stesso colore cioè sulla pelle si è costruito il razzismo si sono costruite le guerre e così via ma sullo scheletro non puoi costruire questa cosa perché lo scheletro è una struttura che mantiene che regge e che quindi costruisce in positivo no perché lo scheletro è uguale per tutti cioè le osse sono bianco avorio insomma cioè non c'è lo scheletro nero del nero lo scheletro roso del roso lo scheletro giallo del giallo o lo scheletro bianco del bianco lo scheletro è con lo scheletro avorio per tutti noi e quindi è una idea la parte più interna più intensa e anche più simbolica e che ci rende ci rende tutti uguali e questo appunto in quest'opera di Galignano questa ingigantire insomma questo scheletro e dargli una dimensione cosmica come aveva fatto appunto Gino da Domenicis l'abbiamo citato l'artista marchigiano che nel 1988 aveva fatto quest'opera che si trova abbiamo citato quando abbiamo parlato dell'Umbria che si trova appunto a Foligno nella chiesa della Santissima Trinità dell'Assunta chiesa sconsagrata dedicata però a questo grande opera che si chiama Calamita Cosmica uno scheletro di 24 metri con sulla falange del tito medio un'asta dorata che va verso il cielo e che appunto mette in connessione terra e cielo e Calignano si riferisce appunto si mette in relazione in dialogo con questa con questa opera benché nel suo caso lo scheletro non sia a terra ma sia in piedi e quindi prende una potenza totemica dall'alto verso il basso e quindi ecco che diciamo in questa idea di vita morte di metamorfosi anche insomma in questa idea di passaggio di avvicinamento verso di noi ed ecco che il passaggio successivo dalle culture daune messapiche ecco che la Grecia la Puglia soprattutto nella parte di Taranto viene conquistata dai spartani che vi arrivano nell'ottavo secolo avanti Cristo e diventa tra l'altro Taranto la città tra i due mari di cui poi torneremo anche più avanti e diverrà diventerà la più importante città polis della Magna Grecia più di Siracusa più insomma delle altre delle altre città della Magna Grecia la più grande la più potente insomma e anche per questo la più appetibile tant'è che i romani poi l'avranno vinta insomma alla fine dopo varie battaglie e non dimentichiamoci che in Puglia si svolgono varie battaglie come la battaglia di Canne quella del 216 in cui appunto Annibale insomma sconfiggi i romani però poi i romani torneranno insomma riuscendo a riconquistare la Puglia ma la Magna Grecia la Magna Grecia in cui anche lì sono stati i filosofi i matematici come Archita uno dei più importanti matematici dell'epoca dell'epoca greca e se noi andiamo appunto nel Marte che è appunto il museo di arte del Marta che è il museo di arte di Taranto archeologico di Taranto vediamo anche qua non possiamo non vedere la base fondamentale che si trova in quasi tutte i musei archeologiche sono due essenzialmente una sono le sculture in marmo in pietra insomma e l'altra sono i vasi l'arte del vaso che abbiamo citato insomma più volte è oltre appunto a monili sia monili come gioielli e così via e quindi abbiamo parlato appunto prima abbiamo accennato a questi orecchini abbiamo accennato a questi famosi ori di Taranto che sono tra le più significative e importanti ori che sono state ritrovati insomma al mondo una delle più straordinarie collezioni in cui appunto dicevamo prima gli orecchini insomma la fanno da padrone ma anche collane anelli certi insomma corone di alloro che ovviamente sono qui tutto in oro e anche per la qualità e la quantità di questi famosi ori ci danno sottolineo la importanza di questo centro nell'epoca della magna grecia e anche la raffinatezza insomma di questa cultura che vediamo anche in altre opere in altre opere come per esempio troviamo anche delle opere pre-greche come vasi poco decorati tipo con una superficie chiara oltre ai tipici vasi insomma greci con figure rosse su fondo nero i vasi downi che erano appunto con dei semplici segni con un colore chiaro ma soprattutto i vasi funerari che sono dei vasi straordinari perché abbandonano o comunque mettono in secondo piano l'aspetto della pittura abbiamo detto che la pittura nell'antichità è una pittura di tipo vascolare la pittura greca nella magna grecia è una pittura vascolare la pittura che si produce sui vasi invece qui si sviluppa una cultura del vaso attraverso l'urna funeraria come fossero delle piccole tombe insomma perché sono delle sculture dei vasi che hanno dei bassorilievi ma hanno anche delle sculture che escono fuori dalla parte superiore che rappresentano varie varie divinità per esempio stiamo vedendo uno con per esempio con tre figure che sono ovviamente le tre parche insomma e anche il colore c'è questo colore rosa rosato in molti di questi vasi che quasi un colore confetto insomma che danno una caratteristica proprio specifica particolare che si trova appunto solo in Puglie e poi dopo appunto i i greci i romani di cui torneremo anche più avanti ecco che arriva a arrivano appunto i normanni e poi gli svevi tra cui infatti c'è una forte presenza di cultura soprattutto attraverso l'architettura sia ecclesiastica e sia civile in castelle e chiese di tipo normanno svevo legata alla cultura romanica ed ecco che arriva lo stupor mundi il puera puglie che è Federico II che è appunto uno svevo che riforma da un lato tutta la cultura del sud Italia e non solo fonda la scuola di Sicilia la famosa scuola di Federico II a cui anche Dandarighieri Petrarca hanno riconosciuto l'importanza per la nascita della 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 lingua italiana no? Una lingua che ha messo insieme appunto le lingue locali dialettali con le lingue normanne sveve con le lingue insomma arabe insomma e così via e questo Federico appunto secondo che addirittura il suo nome è già un programma e la sua vita è ammantata appunto nella leggenza nella leggenza tant'è che lui nasce a Iesi nelle Marche nasce a Iesi nelle Marche mentre andava appunto perché la mamma Costanza si trasferiva per andare a raggiungere il padre appunto in Sicilia a Palermo è costretto a fermarsi perché deve partorire e siccome volevano Federico II sarebbe stato il futuro il nascituro sarebbe stato il futuro re e dovevano essere sicuri che nascesse veramente e che non ci fosse qualche trucco perché Costanza aveva 40 anni insomma all'epoca ma era una tipa tostissima 40 anni all'epoca era veramente un'età molto avanzata non si viveva insomma come oggi si era già vecchi insomma in qualche modo e quindi sospetti erano che lei non potesse partorire e che fosse tutta una finta allora hanno allestito un baldacchino nella piazza di Iesi e hanno fatto partorire la regina hanno fatto partorire la regina Costanza in pubblico nella pubblica piazza in modo per essere sicuri che il re fosse figlio di Costanza insomma del padre del re e quindi e poi continua ovviamente il viaggio in Sicilia insomma e poi lui si trasferde Federico II ovviamente va tra la Sicilia la Pola i vari suoi procedimenti anche in Abruzzo insomma tutta una serie di storie legate tant'è che il Papa lo voleva addirittura scomunicare il Papa Gregorio IX perché lui non voleva fare le crociate aveva tutta una serie di sue idee insomma aveva un'idea abbastanza laica insomma del potere e di chi e a quei temi insomma questo era ovviamente era un problema e Federico II fa costruire tanti castelli insomma tante architetture importate ma quella per cui è ricordata di più ovviamente che è un simbolo della Puglia e che è anche sulle nostre monete dell'euro e a Castel del Monte che è questa collina nel comune di Andria dove nel XIII secolo fa costruire appunto quello che viene chiamato appunto la reggia l'architettura di Castel del Monte che ancora oggi è difficile identificare esattamente cosa servisse ma comunque era comunque una residenza perché oggi appare molto molto spoglia ma in realtà era redata c'erano anche delle sculture insomma che sono state poi tolte insomma nelle varie incursioni successive e la particolarità insomma di questa opera Castel del Monte è che è una fortezza a forma appunto di torre ottogonale centrale con otto torri più piccolo ottogonale agli angoli degli incrocio dei lati che formano insomma l'ottagono anche all'interno è un ottagono è costruito su delle forme più semplici trapezi e triangoli che finiscono per generare l'ottagono e l'ottagono che è legato al numero 8 ovviamente il numero 8 è un numero palindromo che si legge sia come si scrive in tutti i due esempi come per esempio Anna come il nome Anna ma anche come si scrive sono due cerchi e quindi come lo vediamo lo vediamo anche se lo rovesciamo cioè non è come il 9 se lo rovesce diventa un 6 ma è un un numero che se lo rovesce diventa rimane sempre uguale se lo giri e se lo metti in orizzontale praticamente diventa il simbolo dell'infinito quindi qui c'era un'idea di esoterismo ma anche un'idea di potenza di infinità di rappresentazione del potere dello splendor mundi e poi questo è un periodo in cui nascono anche architetture come per esempio l'architettura di Trani che anche questo nasce tra il nono e dall'undicesimo e il tredicesimo e il tredicesimo secolo ha una gestazione diciamo molto più lunga mentre il castello del monde viene costruito in pochi anni e poi insomma per rimanere sempre nell'idea dell'architettura non possiamo non citare l'architettura barocca che abbiamo già citato che caratterizzina l'architettura leccese che è un'altra delle caratteristiche fondamentali dell'architettura pugliese e anche mondiale insomma ovviamente l'architettura pugliese mondiale che è l'architettura leccese che è il barocco leccese che Ettore Spalletti chiamava un'architettura meringa proprio perché è un'architettura soffice perché è lavorata con una pietra molto morbida ma è tutta un'architettura molto decorativa insomma molto floreale e quasi fosse appunto che Ettore Spalletti vedeva insomma come come una una meringa architettura insomma su cui hanno lavorato architetti come Gabriele Ricciardi e il padre e poi figlio Francesca e Giuseppe Zimbalo e anche Cesare Penna insomma che hanno dato insomma questo senso di un'architettura soffice visionaria fantastica fatta di tante cose messe insieme e quindi sono sia piccole parti di natura tronchi diciamo nella rappresentazione c'è una struttura che ha bisogno di una rappresentazione che sia natura mondo perché ci sono tante piccole figure di animali di uomini zoomorfe andropomorfe e anche tanta natura insomma tanta vegetazione in pietra insomma in questa pietra che forma appunto il barocco leccese ma le province di che formano appunto la Puglia alcune le abbiamo introdotte ma altre le andiamo a introdurre e ci ritorniamo in questo divagare andare avanti indietro Foggia poi c'è la provincia Barletta Andrea Trani tra l'altro Barletta quando abbiamo parlato degli scherri faccio una una digressione quando abbiamo parlato appunto degli scherzi degli scherzi ci siamo dimenticati di dire che in questa idea di gigantismo no simbolico anche reale portata appunto nell'opera quando abbiamo parlato dell'opera di Piero Calignano dello scherzi di Piero Calignano a Barletta in saremmo tentati di dire in carne e ossa ma è una statua di bronza si chiama appunto il Colosso di Barletta che viene riferita a Teodosio II è un'opera del V secolo avanti Cristo ed è un colosso alto 4 metri e mezza è una statua di bronzo appunto colossale quindi questa idea della rappresentazione di un essere terreno che però sia un essere divino e anche questo collegamento con lo Stupormonti che abbiamo parlato prima di Federico Barbarossa Foggia Foggia che anche qui non si sa il nome da cosa proviene ma alcuni dicono la fosse dove c'è questa piazza ovale insomma straordinaria a cui Ungaretti ha dedicato queste parole piazza ovale che non finisce più di una strana potenza è tutta sparsa di gobbe sconvolta secca ciecante di polvere nessun luogo avrebbe più diritto di essere dichiarato monumento nazionale ovviamente è una piazza che non è ancora come dire piastrellata perché si parla di polvere si parla di gobbe e quindi si parla della terra battuta praticamente che formava questa piazza a cui Ungaretti dà l'attenzione e addirittura questa sua naturalità questa sua concretezza del terreno questa plasticità dovuta al terreno e alla diciamo alla vita quotidiana insomma che le persone svolgevano e che l'hanno creata questa forma di gobbe gibbosità addirittura per Ungaretti deve essere dichiarato monumento monumento nazionale ma ecco una terra fogge straordinaria legata abbiamo detto prima fa parte del travoliere delle puglie né al centro e un'architettura un luogo di transito di transumanza di uno straordinario ma anche un luogo e una provincia in cui non solo provengono prima abbiamo citato così giocando un po' con l'incipit dialettale con Lino Banfi ma anche abbiamo parlato della comunicazione come del Gallo insomma ma uno dei maggiori comunicatori e artisti che ha riformato diciamo quella che è la comunicazione contemporanea in radio e televisione soprattutto italiana ma non solo è Renzo Arbore che viene appunto dalla dalla Puglia da Foggia ed è anche un collezionista non solo di oggetti pop come jukebox e robe di plastica ma soprattutto anche gli oggetti futuristi quindi questa idea del futurismo della modernità che attecchisce attraverso un passaggio di una persona che ha riformato l'idea della comunicazione moderna contemporanea ma tornando al punto dell'antichità nella cultura dauna quella prima della Magna Grecia a Ascoli Satriano vicino Foggia ci sono i famosi marmi trapezofori che sono queste sculture appunto in marmo di questi due draghi di queste due creature fantastiche che hanno che si fronteggiano che stanno azzannando azzannando un cervo che hanno appunto atterrato è un elemento appunto di potenza mondiale unico ed è quest'idea di questa scultura che ha questa forma adesso abbiamo abbiamo parlato appunto dei normanni abbiamo parlato della cattedrale di Trani Castellalmonte 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 in cui l'architettura è costruita attraverso la geometria addirittura diciamo la potenza geometrica regolare insomma di queste architetture sono ispiratrice per le architetture moderne per le architetture ortogonali della modernità hanno appunto una grande potenza poi abbiamo parlato appunto dell'architettura dei trulli che è l'architettura popolare che ha questo movimento insomma sinuoso in cui è la linea curva che la fa diciamo da padrone alla costruzione dell'architettura le gobbe della piazza naturale di Foggia ma ecco che appunto queste sculture di questi trapezoforo dei marmi di Ascoli Satriano un prodigio di Foggia che si trova appunto nel locale museo e hanno queste code praticamente a forma di volute anche gli stessi corpi agili in cui la linea diciamo curva quasi a spirale e quindi anche qua un senso di una naturalità che tende verso l'infinito costruisce un'immagine una potenza così forte da spiegarci come la mostruosità come lo intendevano i latini sia non qualcosa di brutto di horrifico ma qualcosa di belle di straordinaria di visionarietà insomma ed ecco che questa visionarietà è quello che innerva molti artisti insomma della Puglia tra cui appunto abbiamo già citato Andrea Pazienza che nasce anche lui nelle Marche a San Benedetto perché la madre del Marchigiano vuole partorire nelle Marche cioè non si trova per casa ma vuole andare a far nascere il figlio nelle Marche ma poi Andrea Pazienza crescerà tutta la vita appunto a San Menaio che appunto è in provincia di Foggia nel Gargano e il suo paesino di origine e tanta e che fate di questo segno libero fluttuante insomma quasi appunto ispirato a queste trapezofori di marmi di Ascoli Satriano fa la come dire la cifra stilistica insomma del suo lavoro un lavoro che racconta in questo suo essere barocco anche qui in questo suo essere barocco racconta insomma le storie di una generazione in cui alcune sono appunto anche ambientate insomma a Satriano in Puglia a San Menaio addirittura e per esempio quando lui disegna Pompeo come questo nuovo martire con questa aureola nelle spalle da un lato ovviamente si rifà la cultura bizantina di cui parte anche la 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 Puglia attraverso la presenza della cultura altodossa che viene anche attraverso San Nicolò di Bane dall'altro abbiamo un riferimento veramente molto diretto alla Salome di Carmelo Bene in cui c'è questa immagine cristologica di Carmelo Bene in una scena anche lui con questo aureola dietro la testa e ha una frontalità molto vicina insomma a quella di pazienza insomma pazienza che si ispira insomma a questo cosa a questo diciamo DNA insomma della Puglia a questa cultura ortodossa abbiamo appunto parlato di accennato appunto a Bari San Nicola il santo di Bari appunto pugliese per eccellenza un santo mondiale che si fa risalire addirittura la nascita di Babbo Natale che ha cresso Santa Claus insomma Santa Claus San Nicolaus e così via una santo che viene rubato era un santo appunto di Miria nell'Alicia che viene trafugato nel 1099 e viene portato appunto in a Bari in una specie anche di lotta con i veneziani che come sappiamo loro nell'828 avevano già da Alessandra dell'Egitto i veneziani avevano trafugato appunto il corpo di San Marco quindi in questa lotta era un periodo di lotta delle reliquie che si andava di qua di là a rubare reliquie o comunque a acquistare insomma c'era un commercio e una lotta straordinaria perché avere una reliquia voleva dire avere turismo a loro allora il turismo religioso era un turismo molto importante diciamo forse era l'unico turismo adesso utilizzare la forma l'idea del turismo per la religione per quei tempi magari è un po' azzardato però per far per dirvi come l'idea di prendere di avere delle reliquie era un'idea centrale perché la chiesa la città acquistava importanza e quindi anni dopo insomma nel 1900 nel 1099 i veneziani scusate ricorrego i pugliesi rubano tra le spoglie di San Nicola nel 1089 e i veneziani nel 1099 10 anni dopo vanno lì si inventano una storia che ce n'erano rimaste delle parti che loro non avevano visto non avevano presa e quindi le prendono le portano a Lido dove c'è appunto la chiesa di San Nicolò a Lido e viene venerato insomma questo santo teniamo presente che all'epoca Venezia e Bari si spartivano i traffici di commerci con l'Oriente e quindi avevano una avevano degli interessi comuni quindi sia nei commerci sia nel sacro con le deligue e sia nel profano insomma con i commerci ed ecco che appunto questa chiesa di Bari di San Nicolò di Bari costruita sul stile romanico in cui all'interno ci sono delle importanti anche sculture o anche micro architetture come il ciborio che è il ciborio più importante più antico della Puglia oppure come la cattedra che appunto è scolpita in marmo in marmo di trani con dei teramoni che lo regano con degli animali insomma così è la cattedra di San Elia e poi ovviamente la cripta che appunto che sono che è sotterranea e si divida in 36 navate poi una parte laterale è dedicata e è stata data agli ortodossi perché appunto San Nicola di Milia o poi San Nicola di Bari è un santo adorato anche appunto dagli ortodossi anzi un santo centrale insomma della cultura ortodossa tant'è che da quando ci sono stati i controlli del comunismo insomma si sono aperte le frontiere c'è stato un aumento vertiginoso di visite dei fedeli ortodossi che provengono ai paesi dell'est appunto nella chiesa di San Nicola di Bari e quindi in quest'idea di relazione tra il sacro e il profano ecco che appunto Bari capitale capoluogo scusate di provincia ma anche capoluogo di regione assomma all'interno insomma della della sua città la basilica di San Nicola che tra santità laicità e est e ovest l'idea di questo santo mitrilico che vuol dire contando che nella geografia sono dei santi che vengono che hanno un corpo odoroso un corpo profumato che spandono un odore paradisiaco ecco che praticamente si fonda la centralità della antica città di Bari Bari centro di quindi di antichità e modernità centro di sacro e profano ecco che per esempio potremmo parlare del palazzo dell'Acquedotto un palazzo affidato nel 1926 quindi in piena epoca fascista dall'ingegnere Cesare Brunetti che coinvolse anche l'artista multidisciplinare nel senso che era appunto pittore decoratore scultore insomma come erano gli artisti un tempo Duilio Cambellotti che fece appunto tutti gli interni collaborò anche alla definizione del progetto in generale ma soprattutto lavorò per gli interni progettò tutti gli interni i pavimenti quindi i disegni dei pavimenti i materiali tutti gli affreschi nelle pareti i mobili i disegni a mobili maniglie porte insomma un'opera di arte complessa un'opera di arte totale in stile Liberty quindi questo rapporto tra arte e design è un rapporto che permane persiste insomma nella cultura italiana come abbiamo più volte risottolineato e tant'è che vorrei anche sottolineare la presenza negli anni 80 della galleria speciale che è una galleria condotta da due designer artisti autori molto più apprezzati nell'ambito del design che delle arti visive infatti molto sostenuti molto da Alessandro Mendini ma anche da Franz Axe questo mitico direttore del museo di Groningen che è colui appunto che commissionò la realizzazione del museo di Groningen Alessandro Mendini di cui appunto l'anno scorso ricorreva il ventennale o il trentennale e quindi questi autori che aprono che erano anche galleristi che aprirono appunto a Bari la galleria speciale gli autori si chiamavano appunto Tarsito Isciama ed erano appunto Tarsito Nicola Stripoli Isciama Cinza Tadori due artisti sui generis che facevano opere a 360 gradi che andavano appunto la scultura la pittura l'installazione l'oggetto di design come per esempio poi e anche appunto come dicevo uno spazio espositivo in cui esposero artisti di varie provenienze come lo stesso Mindini appena nominato ma Gianni Pettero lo stesso appunto Ugo Lapietra Andrea Branzi Mario Merz e così via poi nel 87 la galleria cessò perché per Shama venne a mancare e Tarsito continuò appunto a lavorare per conto suo come artista sempre con quell'approccio in cui gli oggetti le opere hanno un rapporto con la conoscenza del secolo il cosmo questa idea di rapporto con la cosmicità di cui stiamo sempre più sottolineando come possiamo vedere anche un'immagine dei vasi comunicanti di Tarsito che sono appunto dei vasi che molto ricordano le pagode Hindu soprattutto quelle del Myanmar per esempio queste pagode dorate e Bari Bari è ovviamente la sede della casa editrice La Terza che tanta attenzione presta all'arte non solo appunto all'arte antica ma soprattutto anche all'arte moderna e all'arte contemporanea abbiamo solo dell'arte moderna contemporanea di Renato De Fusco o il sistema dell'arte di Francesco Poli come anche la sua minimal arte povera arte concettuale sempre dello stesso Poli insomma e tanti altri libri dedicati alla cultura dell'arte contemporanea una città insomma che ha vissuto anche a livello di gallerie già in passato una un tempo glorioso con la galleria di Marilena Bonoma scusate ma Marilena Bonoma e anche il collezionista Angelo Baldassarre e Marilena Bonoma che appunto ospitava mostri di artisti del calibro di Alighiero Boetti di Sol Lewitt o anche di David Tremlett Richard Long insomma artisti di di estrazione minimale concettuale arte povera con cui era anche amica e portando appunto a Bari una ventata di contemporaneità internazionale insomma molto forte oggi assistiamo invece alla galleria doppelganger di Antonella Spano che anche lei espone artisti invece più giovani artisti contemporanei come Daniela Cobascio che utilizza soprattutto il lavoro del materiale del neon realizzando delle scritte molto movimentate deformate ma anche molto incisive come help come no no oppure come sud su delle frecce che vengono collocate in varie zone della città come nel porto oppure nel castello nel castello Svevo ma diciamo la pietra miliare artistica più significativa più importante a livello internazionale è Pino Pasquale un artista che dal 69 purtroppo è venuto a mancare per un incidente automobilistico al Muro Torta a Roma città dove viveva dove si era trasferito per studiare l'Accademia di Belle Arte con Trotiscialoia era anche compagno diciamo di studi e poi anche compagno di strada di arte di Giannis Kunelis che era arrivato dalla Grecia come abbiamo già detto e Pino Pasquale un artista anche lui multiforme un artista multiforme perché lavorava disegnava anche fumetti cartoni animati per la televisione per le pubblicità recentemente è stato presentato a Venezia da parte della fondazione Pascali tutto un lavoro che Pascali fece di ricerca per la pubblicità dei pomodori che lui scattò tantissime fotografie girò anche alcuni filmati il logo che nacquero da quell'esperienza come il pulcinello in cui lui interpretava questo personaggio tutte le varie fotografie che lui fece soprattutto nella zona del porto nei bar agli oggetti e anche i modi insomma della gente e del folclore come Rupazzariel per esempio e da cui erano appunti da cui poi vediamo guardando queste foto che guardando queste foto appunti molto importanti che servono a Pascali poi per fare le opere diciamo d'arte successive come per esempio le telecentinate degli animali dei delfini dinosauri rinoceronti e così via o anche della bocca questo artista insomma che tanto ha dato insomma la cultura dell'arte o con le sue performance altri video quando lui è nell'acqua quindi nel mare Adriatico nel suo mare di Polignano dove adesso era di Polignano dove adesso c'è appunto da anni la fondazione Pascali con un premio anche Pascali dedicato alla alla memoria della sua figura e con anche una collezione molto importante è una fondazione diretta dalla critica d'arte Rosalba Branà e quindi questo artista che da qualunque cose faceva nascere un'opera d'arte sia dalla manipolazione come in questo caso che abbiamo detto con la centinatura della tela e sia dalla dalla giustapposizione degli oggetti come per esempio le opere Baghe da Setola o le liane o le trappole fatte con pezzi di scopettone per la cucina oppure le pagliette d'acciaio per pulire le pentole insomma in una riconsiderazione in cui un oggetto o un oggetto o uno strumento veniva defunzionalizzato e rifunzionalizzato e simbologizzato nuovamente la performance appunto in cui lui nel mare ha in mano la testa di una di una dea classica una divinità classica una venere e che lui fronteggia e guarda quasi a volerla a volerla a volerla baciare quindi anche un aspetto teatrale attoriale insomma molto importante insomma nel lavoro di Pascali che ci dà conto appunto che per lui la materia della Grecia della Magna Grecia quindi nel suo territorio era una materia un materiale una materia viva con cui per formare insomma non solo una materia da agire sul piano della concettualità e questo dobbiamo fare sicuramente un paragone ovviamente non di qualità perché sono due grandi artisti due grandi opere con l'artista Giulio Paolini già citato con l'opera Mimes in cui ci sono queste due teste classiche di Policleto che si guardano tra loro dove tutto il lavoro è sullo sguardo ma è uno sguardo concettuale è uno sguardo è lo sguardo dell'arte del vedere dell'arte del rapporto tra modello e autore mentre appunto nello sguardo a testa Pascali uno è l'oggetto scultura l'altro è l'artista quindi l'artista che si mette non come calco dell'arte ma come attore in prima persona e questo Polignano insomma che c'entra appunto sede della Fondazione Pascale che tanto fa appunto per la conoscenza qualsimai ne avesse bisogno ne ha sempre bisogno un artista perché è veramente un artista di fama mondiale tanto fa per la conoscenza di Pascale ma anche per far conoscere i lavori di altri artisti attraverso il premio che che hanno in qualche modo insomma un rapporto con Pascale non solo artisti visivi se ne sono stati premiati diversi per esempio come Jan Faber ma anche altre figure professionali come critici d'arte Bonito Liva o anche galleristi Fabio Sargentini che è stato appunto il suo gallerista il gallerista che ha fatto le moste più importanti insomma significative di Pascale di Pascale artista appunto con sede a Polignano a Polignano Polignano a Mar che è noto anche per essere per aver dati i Natali in realtà Pascale non ha dati i Natali nel senso che Pascale nasce a Bari però i genitori si trasferiscono a Polignano che è appunto vicino a Bari provincia di Bari e lui cresce insomma a Polignano e quindi viene appunto considerato di Polignano mentre chi nasce a Polignano ma anche lui nascerà appunto Polignano per far sì che potesse affermare il suo il suo lavoro è un artista ma non un artista visivo ma benissimo un artista musicale e anche cinematografico che corrisponde forse il più noto cantante italiano che corrisponde al nome di Domenico Modugno e sì Mister Volare Mister Volare che nasce appunto a Polignano e che poi da lì va alla conquista del mondo con questa sua canzone che tutti conosciamo e che per le sue parole è stato equivocato di essersi ispirato all'opera di Ives Klein ma probabilmente è il contrario perché perché Volare vince il festival di Sanremo nel 1958 e leggenda vuole che lui perché Modugno era anche un collezionista leggenda vuole che lui si fosse ispirato in questa canzone appunto alla performance di Ives Klein che appunto dipingeva le modelle dipingeva anche se stesso con l'International Blue Klein un colore appunto di sua invenzione l'invenzione dell'artista francese di Ives Klein che però fa queste performance nel 1960 e quindi casomai siccome la canzone di Domenico Modugno diventò subito famoso mondialmente e casomai forse in qualche modo Klein ha guardato anche ha ascoltato anche questa canzone e quindi possiamo ritrovare una una sintonia perché appunto la canzone di Modugno sapete come fa sembra proprio una performance di 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 no credo che un sogno così non ritorni mai più mi dipingevo le mani e la faccia di blu poi d'improvviso vento rapito e mi trovavo a volare nel cielo infinito tutti insieme volare oh e cantare oh nel blu dipinto di blu felice di stare quassù con te ebbene dopo questa digressione così ehm ironica eh anche scherzosa ma non tanto perché appunto Klein farà anche il suo famoso l'altra suo famoso tentativo di volo gettandosi dalle finestre di un palazzo eh ecco che tornando però strettamente alle arti alle arti visive ecco terra di Bari terra di eh artisti eh che hanno avuto o stanno avendo anche riscontri insomma nazionali e internazionali eh e pensiamo per esempio a Mim con Enna che da qualche anno insomma non c'è più ci ha lasciato eh e forse la sua opera più conosciuta è l'opera con gli imbuti fatta di di tanti imbuti questi imbuti giganti che sono appunto accatastati uno sull'altro e che hanno avuto notorietà anche popolare se vogliamo eh alla Biennale di Venezia nel 1978 in cui è risposta nei giardini all'esterno eh perché appunto eh è stato ripreso e commentato eh nel film eh le vacanze intelligenti di Alberto Sordi quando appunto con la moglie lui si rega alla Biennale eh di Venezia e nel giardino prima di entrare insomma nelle sale eh la la moglie del fruttarolo Remo eh di Roma eh e vede queste questi imbuti di Conenna ha ammonticchiato ammonticchiato uno sull'altro e fa appunto la famosa battuta prima di andarsi a sedere eh in Gnavia in Gnara sulla sedia opera di eh con la palma di fianco eh di Magin du Ciel di Maurizio Nannucci e si imbatte in questi inciampa addirittura in questi grandi imbuti eh e dice la famosa frase la nota frase in cui dice ma che sono questi e questo come faccio io quando spiccio casa cioè quando ha detto appunto alla Romano eh quando metti in ordine insomma la casa la casa quando pulisca e sistemo le cose a montare eh in pilo eh in pilo gli imbuti e poi appunto c'è eh Franco Matarrese che apre tutto un altro eh cioè appunto Michele Zaza di Zaza che abbiamo anche Giano eh nominato all'inizio di questo ehm di questo di questo discorso insomma di questo episodio eh Michele Zaza che esordisce giovanissimo già all'inizio degli anni settanta eh lui studia a Milano a Caleri di Ibera già all'inizio degli anni settanta e già eh fa una mostra alla galleria di Aframma di Luciano Ingapino in una delle gallerie più importanti in quel momento che scovava capace di individuare le nuove le nuove leve infatti tra i primi a fare le mostre più di ontani ma anche delle nuove leve come Mimmo Paladino Nicola Nicola De Maria che abbiamo già citato e Michele Zaza farà appunto le mostre anche dalla Marilena Bonoma come abbiamo detto eh che abbiamo già citato a Bari e poi Zaza mostra anche da Massimo Minini allora la sua galleria si chiamava Banco oppure da Lucia Medio insomma e le mostre appunto nei vari musei come San Pompidou come il museo della Ville de Paris con una mostra personale insomma Viennale Documenta Castle insomma e così via con un avvio ehm una delle prime opere che appunto si chiamava Dissidenza ignota in cui si vedeva eh una 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 stanza insomma un luogo con dell'ovato della bambagio con sopra una pistola con sua mamma suo padre che sonnecchiava o che faceva altre che sbrigava altre faccende eh di casa in altre faccende affaccendate e questo ci dà anche il senso perché lui utilizzasse sua mamma perché una delle delle poetiche di eh eh corpo cosmo di Michele Zaza che abbiamo di cui abbiamo già accennato e che diceva appunto il confine del mio corpo e il confino del mio mondo e che quindi vuol dire il confine del cosmo il confine insomma di tutto e quindi come stare corpo e arte che sono diventano una cosa sola ma da Bari c'è appunto anche Franco Matarrese Franco Matarrese che anche lui inizia con opere fortemente concettuali e anche opere come dire contestative opere radicali come per esempio opera con dei manifesti in cui c'era scritto in grandi caratteri neri copitali le contraddizioni sono ovunque come da lì a Roma a Napoli allora lì a Roma non si era ancora spostata a Milano ma poi nel 1978 c'era una mostra all'antiquaria di Roma collettiva con altri artisti che doveva essere a cui era invitato a partecipare perché era appunto un artista di cui è diventato importante di cui si parlava che veniva invitato e lui manda un telegramma come opera definitiva in cui appunto dice che lui rinuncia all'arte e rimane a Bari di non partecipare perché adesso lui è interessato solamente alla non arte alla post arte e quindi a vivere questa condizione della non arte che è una condizione politica anche infatti lui lavorerà anche a stretto contatto producendo molti testi con Mario Tronti per esempio insomma e così via e questo in qualche modo è una linea politica molto forte insomma che esiste in Puglia in alcuni artisti perché abbiamo per esempio gli artisti che abbiamo citato fino adesso sono artisti che hanno più rapporto col cosmo rispetto all'arte insomma lo stesso Pasquali quando sarà invitato nel 1968 69 alla Biennale di Venezia si è in piena contestazione e gli artisti decidono di abbandonare la Biennale di girare le opere e a Pasquale anche viene coinvolto in questa operazione ma lui si rifiuterà di aderire insomma a questa contestazione perché dirà io difendo la mia arte esponendola e non girarla girandola e anche così facendo la vedere la mia arte faccio così faccio un'opera di arte di arte sociale non nascondendola e nascondendola e quindi ecco che artisti come più giovani insomma che iniziano ad emergere fino all'anno 90 iniziano anni 2000 insomma come per esempio Francesca Rena che fanno appunto un lavoro che hanno come riferimento fatti politici fatti sociali soprattutto italiani insomma e non solo anche questione di misura di e allora per esempio come 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 l'opera 3,3 metri 2,24 cm quadri che è un'opera appunto del 2004 mi sembra che è in collezione alla fondazione Nomos di Roma che praticamente si vede come una sorta di rande cassa chiusa come fosse una cassa per trasporto per trasporto opere in realtà c'è un'apertura si entra è una stanza la ricostruzione di una stanza che misura appunto 3 metri 2,24 cm quadri ed è la ricostruzione della stanza di Aldomoro infatti all'interno c'è un lettino c'è un lavandino che è un monumento insomma alla prigionia di questo politico italiano grande politico italiano che viene rapito nel 78 e la storia della politica italiana in tutti i suoi modi destra, sinistra terrorismo insomma è uno dei centri poetici del lavoro di Francesca Arena e questo appunto parla di questo fatto che non solo è un fatto italiano è un fatto mondiale ma è anche un fatto locale per Francesca Arena perché lui appunto è pugliese e anche appunto come sappiamo Aldomoro è di origine pugliese così come dall'altro versante per esempio Rossella Biscotti di cui parleremo però più avanti che anche lei fa dei lavori di impianto politico come per esempio il processo alle Brigade Rosse che consiste in un lavoro di anni di ricerche di archivi di documentazione di intervista e che viene restituita attraverso un'installazione in cui sono presente anche tutta una serie di registrazioni insomma e così via o Chiara Fumagli che purtroppo non c'è più ci ha lasciato qualche anno qualche anno fa un'artista votata un successo molto in essere anche molto molto evidente e aveva un lavoro anche lei che rispetto soprattutto attraverso il recupero della cultura della cultura femminista benché lei dicesse anche e quindi cercando di far saltare le contraddizioni insomma di del perché della condizione di immaginazione della donna che oggi è un tema molto alla ribalta molto importante molto sentito e molto anche sostenuto però in quegli anni si erano ancora insomma agli inizi anche lei è stata appunto ospita alla documenta 13 di Castle ma anche nell'ultima biennale postuma la sua partecipazione ovviamente non c'è più è stata una partecipazione postuma e ho altri artisti anche più giovani per esempio come Sergio Rakanati che anche lui è un artista che fa della politica e della politica del proprio corpo in rapporto agli altri elementi che circondano la nostra esistenza il centro poetico insomma del proprio lavoro avevamo annunciato la biscotta lei di Molfetta e quindi sarebbe rientrata come diciamo tipologia di lavoro in Bari invece l'ho voluta mettere a Brindisi perché Brindisi come sapete è il porto d'Italia in cui si imbarcarono Vittorio Emanuele e Badoglio quando scapparono abbandonando l'Italia e così Brindisi che questa cittadina appunto anche lei sul mare la porta dell'Oriente ci si imbarca per andare in Grecia ed era anche un porto dei Romani infatti ci sono queste due colonne che sono le colonne nella fine della più antica si chiamano le colonne gemelle ed è un unicum nell'antichità anche se oggi di colonne ne è rimasta una sola e dell'altra c'è solo una base erano appunto in origine l'altezza di quella rimasta quindi 18 metri 74 centimetri quindi due colonne molto alte molto molto imponente come se fosse una porta sul mare tra occidente insomma ed oriente abbiamo detto una è crollata nel 1528 e quindi poi si sono stati tentativi studi anche mostri per ricostruirla ma poi alla fine non se ne è fatta niente si è deciso per un restauro di tipo conservativo quindi che vuol dire più o meno lasciare le cose come stanno mantenendone la condizione leggenda dice anche che questo rapporto tra Venezia e Bari che sempre ritorna e dicono anche che praticamente queste colonne sono servite di ispirazione alle due colonne che ci sono a piazza San Marco nella parte che guarda dove c'è Palazzo Ducale come sapete ci sono due colonne in fondo gemelle in cui su uno c'è appunto San Marco e l'altro che sembra un San Giorgio ma in realtà non è San Giorgio ma invece è San Teodoro che appunto ha sotto i piedi una sorta di drago di coccodrillo con un'arancia che viene infilzata perché San Teodoro è stato il primo patrono di Venezia solo che è successo in questa lotta dicevamo prima delle reliquie a un certo punto succede che San Teodoro era padrone di Venezia quando Venezia non era ancora una potenza ma quando Venezia comincerà a crescere di importanza loro diranno che Venezia aveva bisogno di un santo più famoso perché San Teodoro nel Medioevo fosse un santo molto noto molto conosciuto molto seguito sembra che stiamo trasformando i santi in delle pop star in delle star cinematografiche non è questo l'intento ovviamente ma è vero che sappiamo appunto che nella nella religione insomma cattolica nella religione cattolica cristiana e non solo ci sono tutta una serie di Sandi che sono più noti perché fanno più miracoli perché hanno avuto una storia che è stata più raccontata e così via quindi ecco che Venezia si deve dotare di un santo e quindi sceglie un santo uno dei maggiori santi appunto che è un santo anche evangelista allievo di San Paolo apostolo e quindi come sappiamo trafugano il corpo di San Marco nell'828 appunto da Alessandria d'Egitto e che dà vita poi anche a dei capolavori come il ritorno del corpo di San Marco di Tintoretto uno dei massimi artisti insomma veneziani e per restare invece alla diciamo regionale alle arti visive contemporanee di Brindisi dove nasce ma poi in un paese vicino Mesagne anche se adesso è a Parigi Giuseppe Cabellone che ha un tipo di lavoro è uno scultore essenzialmente anche se utilizza la fotografia ma anche quando utilizza la fotografia la utilizza come un'idea di scultura è uno scultore che utilizza materiali poveri insomma per così dire materiali che anche Pasquale insomma ha già usato 50 anni prima e quindi lui si iscrive all'interno di questa tradizione diciamo dell'arte povera ed è un rapporto soprattutto con la terra di Pugli soprattutto attraverso la lettura che ne dà Pino Pasquale e da Brindisi da Brindisi arriviamo a Taranto torniamo a Taranto prima abbiamo detto appunto la città degli ori ne abbiamo parlato come luogo della Magna Grecia ma tra antichità e modernità Taranto per l'arte per la cultura è legata a Little Cedar è legata a Little Cedar che oggi ovviamente è nota per tristi vicende insomma quelle dell'acciaieria dell'inquinamento nel fatto che debba essere venduta smantellata problemi ecologici molto forti di produzione rapporto di mantenimento dall'altra parte del lavoro gente che si ammala insomma questione insomma che sappiamo e che l'abbiamo sempre sul 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 tappeto attraverso i media i maggiori media ma ecco che Taranto a Little Cedar quando nasce insomma agli inizi diventa un centro di come dire di aggregazione culturale anche non era solo non era solo una fabbrica ma era anche un centro di aggregazione culturale perché le fabbriche seguendo anche l'idea olivettiana insomma della fabbrica che non è solo luogo del lavoro ma anche luogo di accrescimento di crescita della cultura e via dicendo fa tutta una serie di operazioni soprattutto affidando diciamo la direzione a Eugenio Carmi l'artista Eugenio Carmi fa tutta una serie di operazioni in cui volta a promuovere insomma a promuovere la cultura come per esempio e che questo è raccontato molto bene in questo libro di Gianluca Marinelli un artista un giovane artista storico dell'arte tarantino che è un libro che si chiama Taranto fa l'amore a senso unico Taranto fa l'amore a senso unico che riprende una come dire una performance svoltosi nel gennaio del 1971 insieme a altre operazioni artistiche a Taranto all'interno di una manifestazione più grande in cui c'erano vari artisti che si chiamava per un'industrializzazione diversa e questa performance insomma di di Gianluca no di Gianluca Marinelli di due artisti appunto locali che però avevano una un'impronda almeno diciamo nazionale se non internazionale e che consiste in un grande lenzuolo che viene svolto nella piazza e anche viene come dire viene qui viene scritto con il colore rosso questa scritta appunto tanto fa l'amore a senso unico una serie di operazioni artistiche performance presentazioni sculture mostre insomma e così via che si che si come dire si iscrive in un processo già di crisi dell'idea dell'industrializzazione per una industrializzazione umana insomma era diciamo il titolo della rassegna e praticamente insomma la performance di Michele Perfetti e Vittorio Del Piano portava insomma a questo interrogativo a questo interrogativo che appunto c'è Luca Marinelli che racconta tutti i fatti non legati solo a questa giornata ma i fatti dell'Ital Sider rispetto alla produzione culturale perché appunto succede che appunto negli anni 60 vengono allestite destinate delle sale proprio a conferenze dove arrivano Ungaretti Brandi Umberto Eco tantissimi intellettuali a fare conferenze oppure lo storico dell'arte Marco Varsecchi organizza delle mostre delle mostre anche in collaborazione col MoMA che sono soprattutto mostre di grafica però dove ci sono artisti del peso di Chagall di Picasso insomma di Hogarth insomma abbiamo detto Dalì insomma e così via e quindi addirittura artisti diciamo anche artisti locali come Nicola locali nel senso che sono di Taranto che però hanno già avuto sono già anche affermati come altri che abbiamo citato nel panorama nazionale come lo scultore Nicola Carrini che è uno scultore di tipo minimalista con sculture componibili che appunto fa delle sculture diciamo utilizzando delle forme geometriche cubiche parallelepipedi scalari che si possono mondare per dare vita a altre altre opere perché c'era in quei tempi questa idea della partecipazione anche dello spettatore che poteva partecipare a creare a creare l'opera anche se anche queste sculture di Carrini siccome sono in ferro sono pesantissime diciamo il montaggio è un montaggio solo di tipo ideale una volta che è stata installata e dall'altra che è stata installata si faceva addirittura due riviste faceva la di Talcider una era la rivista di Talcider ed è una rivista in cui appunto partecipavano anche degli artisti facendo delle grafiche anche le copertine come anche artisti come Capogrossi per esempio insomma come Costantini come Carrino insomma altri nomi insomma che abbiamo citato insomma che potremmo citare è una rivista di riflessione politica sociale culturale insomma così ma era c'era anche faceva una rivista che si chiamava Il Lingottino ed era una rivista per i figli i bambini dei figli dei dipendenti dell'Italcider e anche qui c'erano gli artisti che per esempio come Emanuele Luzzati il famoso disegnatore di cartone animati che aveva fatto una delle copertine e anche altri artisti e all'interno c'erano tutta una serie appunto di articoli legate che venivano illustrati anche con delle opere d'arte sia di questi artisti contemporanei ma anche con immagini di arte antica per esempio come Bruegel o Raffaello insomma e così via e che trattavano vari temi temi per i bambini come per esempio le stagioni e che i mesi che tornano oppure il presepio insomma il numero di Natale insomma e così via a proposito di presepio che siamo andati in ambito religioso teniamo presente che era talmente forte insomma l'Italcider ancora oggi simbolicamente insomma è molto ovviamente molto importante che nel 68 quando c'erano tutte le contestazioni quando sembrava che stesse per esposare la rivoluzione la messa di Natale Paolo VI il Papa la tiene non a Roma ma la va a tenere a l'Italcider proprio per marcare la simbolicità dell'importanza insomma di questo posto e il fatto che la Chiesa voleva comunque mettere si trovava in quel momento in difficoltà e quindi andava diciamo come in soccorso a se stessa e alla fede nei luoghi della rivoluzione nei luoghi del marxismo che sono appunto i luoghi dell'operaismo un operaismo una infatti c'erano anche dei manifesti delle cartoline insomma come potete vedere qui nella nell'immagine insomma che vedete riprodotta a Natale 1968 a Taranto poi allo sesto tra i lavoratori e a Taranto viene anche Massimo Grimaldi artista che appunto vive a Milano opera a Milano ma generazione diciamo 40-45 anni e che anche lui lavora con un approccio politico insomma molto molto forte fece un po' scalpore anche un po' scandalo il fatto che quando lui vinse il premio maxi che consiste in qualche centinaia di migliaia di euro invece di intascarsi i soldi diede i soldi ad emergency per finanziare la costruzione insomma di un ospedale e lui ha tutta una parte del suo lavoro che viene fatto in collaborazione con emergency e viene e serve a finanziare insomma anche questa organizzazione non governativa umanitaria o e per esempio nelle sue mostri si possono vedere degli slideshow che vengono proiettati ogni volta sull'ultimo modello insomma della Apple ovviamente non è una pubblicità alla Apple ma è il fatto di avere una tecnologia la più avanzata in quel momento quasi fantascientifica che invece mostra delle immagini che riguarda appunto campi profughi situazioni di emergenza insomma e così via e sempre nella provincia di Taranto abbiamo Martina Franca e Martina Franca perché ci interessa all'interno di questo discorso ci interessa all'interno di questo discorso perché Martina Franca è il paese di questa cittadina di Lidia Carrieri che è stata una gallerista molto importante anche lei negli anni 70 fino agli anni 90 quando poi ha chiuso la galleria per aprire invece sempre a Martina Franca a Martina Franca teniamo presente che c'è stata anche una parentesi in cui Lidia Carrieri ha aperto in piazza di pietra a Roma che si trova una travesta di via del corso tra via del corso e via del piazza del pantheon una galleria che ha tenuto per una dei 10 15 anni e contemporaneamente continuava a avere anche la galleria a Martina Franca una galleria che nasce all'inizio esponendo opere diciamo di artisti fotografi poi man mano si specializza con artisti anche come Joseph Beuys tenendo sempre una linea politica sociale insomma molto forte attende ai nuovi linguaggi di un'arte che va verso la società tant'è che è rimasta anche mitica a Martina Franca questa mostra di Rammelsé Rammelsé è stato un artista graffitista graffitista vera nel senso che si calava tra la gente sui treni ma poi lavorava appunto anche nelle gallerie nei musei che aveva appunto teorizzato questo futurismo gotico e panzerismo iconoclasta era anche un teorico molto molto forte molto ferrato non gli bastava fare solo i graffiti lui parlava di lettere armate rifacendosi alle parole in libertà in libertà futurista diceva per esempio io non sono un artista Rammelsé è un'equazione e io entro nella scena dell'arte soltanto come un gangster infatti le lettere parlava di lettere armate ovviamente le lettere armate gangster indiesse come gangster come necofrante del linguaggio dell'arte quindi queste lettere queste tag sembravano dei mitra delle pistole spaziali insomma e poi il potere si serve del linguaggio per controllarci ma se noi possediamo la lettera siamo padroni del nostro destino quindi il fatto di sottolineare che la cultura è fondamentale ovviamente Rammelsé è un artista di colore e bellissime insomma le sue sculture e soprattutto queste lettere armate che fece appunto con la pietra di Martina Franca con la pietra locale queste grandi lettere anche di alcuni metri lunghe anche tre metri e poi disegnate con queste forme Rammelsé insomma come vi sto dicendo e come vedete dall'immagine che contano più di molte parole e su cui veniva spruzzato poi sopra del colore come fosse una sorta di dripping e per proseguire siamo a Lecce a Lecce abbiamo già parlato appunto del barocco leccese questa forma di architettura di arte tra natura in cui la natura e la natura e anche la natura della cultura nel senso della della stratificazione del sapere delle immagini figurative animali botaniche quindi in un antrop botanico zoomorfismo totale ha costruito questa unicità barocca del barocco leccese che si inizia a essere costruito tra metà del cinquecento e metà insomma del seicento che poi possiamo ritrovare per esempio nei quadri di un artista leccese Fernando De Filippi dove proprio c'è una sintesi nei suoi lavori tra la cultura della Magna Grecia questo parliamo del secondo De Filippi che inizia verso gli anni ottanta dove ci sono una pittura che assomma immagini della Magna Grecia con le forme appunto del barocco tipico di uno che ha avuto queste forme fin da bambino insomma a Lecce ma che ha avuto anche lui la parte politica nella prima fase in cui arrivato a Milano nel 74 faceva appunto delle campagne come opera d'arte delle campagne di affissione con degli slogan con dei manifesti che tappezzavano tutta la città con delle scritte d'arte come pratica sociale per esempio oppure delle performance quella più nota è la performance in cui lui si trasforma in Lenin facendo una e quindi i risultati poi sono una serie di fotografie in cui si vede questo passaggio di questa trasformazione da diciamo il suo essere Fernando De Filippi e il suo diventare Lenin che era appunto un punto di riferimento in quel momento e siamo alla provincia di Lecce siamo nel Salento siamo a Otranto dove finiremo insomma la nostra il nostro il nostro viaggio e Otranto è un appunto un luogo straordinario per tanti per tanti per tanti motivi intanto abbiamo nella cattedrale di Santa Maria dell'Annunziata un'opera che è stata realizzata tra il 1163 e il 1165 da parte del monaco basiliano Pantaleone che è un laberinto teologico è un pavimento musivo quindi un mosaico enorme quando tutta la cattedrale in cui praticamente c'è l'albero della vita le storie della Genesi che si svolgono insomma in questo mosaico come potete vedere insomma attraverso attraverso le immagini quindi un delirio figurativo una ma un delirio in senso ovviamente positivo nel senso che noi entriamo nella chiesa e praticamente però iniziamo dal basso quando arriviamo in cima troviamo per esempio la Genesi il peccato ad Amedeve eccetera quindi in realtà bisognerebbe leggere dal fondo e venendo in giù e invece questo è come se noi arrivassimo e l'artista costruisce il laberinto teologico questa opera musiva come se noi stessimo riavvolgendo la nostra esistenza da oggi da oggi alle origini e quindi questo barocco leccese nasce anche da una condizione di di questo mosaico così figurativamente intricato e così figurativamente fantastico mitico insomma e a Cesario a San Cesario quindi la vicino abbiamo per esempio il Santuario della Pazienza di Ezechiele Leandro che appunto era insomma lui è morto nell'81 un artista outsider che come tipo il postino Cheval no che è a fare il suo palazzo impossibile il suo palazzo immaginario a Othivier raccogliendo i ciotoli del fiume insomma e mano a mano facendo questo palazzo questo suo palazzo ideale ecco che qui Ezechiele Leandro orfano figlio di NN adottato lasciato che diventerà rottamaio insomma venditore meccanico di biciclette insomma così insomma una persona che si arrangia come proprio che si arrangia soprattutto con le mani ovviamente in questo caso a riparare ad aggiustare le cose e noi mai e non diamo importanza a chi veramente sa fare con le mani sa aggiustare ciò che si rompe perché noi abbiamo bisogno di persone che sappiano immaginare un mondo diverso che si a partire dai cocci della realtà dai cocci dell'esistenza ed ecco che a fianco insomma di questo lavoro diciamo per sbarcare il lunare nel 1975 inizia a fare questo santuario della pazienza che è appunto una sorta di giardino di sculture fantastiche immaginarie alcune anche si intravede reale insomma tra mitologia fantasia cristianità religiosità che appunto lui fa con cose che trova cemento ciotoli pezzi di ceramica rotta insomma e così via lui è anche un pittore fa anche questi quadri insomma straordinari che con queste figure espressioniste insomma così e anche tanti mobili produce mobili oggetti sempre con questa idea di questo grande attenzione insomma al bricolage ma ecco rientrando a Othandro abbiamo appunto la chiesa degli 800 martiri perché questa chiesa con tutte queste ossa con queste teche con queste centinaia di ossa degli 813 martiri che furono appunto martirizzati nel 1480 dai turqui a cui i cristiani non vogliono arrendersi dai turchi guidati dal generale Jeddik Hamet Pasha e poi successivamente le ossa di queste ovviamente qualche anno dopo quando i turchi vennero scacciati si recuperavano le ossa di questi martiri e si misero appunto in queste teche nella chiesa appunto dei 800 dei cosiddetti degli 800 martiri che potete vedere questa idea di creare dei grandi reliquari insomma attraverso le ossa perché abbiamo già parlato dell'importanza delle ossa dello schetero è una cosa appunto mondiale per esempio a Milano per fare da sud al nord nell'Italia abbiamo la chiesa di San Bernardino le ossa appunto a Milano e anche lì sono migliaia insomma di teschi migliaia di scheletri insomma custoditi che fanno quasi da tappezzeria insomma da contromuro alla chiesa oppure le catacombe di Parigi che contano appunto scheletri ammonticchiati per circa 6 milioni o per esempio il monastero di San Francesco a Lima in Perù addirittura 75 mila scheletri ma ce ne sono in Austria in Repubblica cieca insomma un po' dappertutto quest'idea dello scheletro che diventa simbologia che diventa architettura che diventa testimonianza che diventa memoria di ciò che non dobbiamo fare e anche luogo di pentimento ecco che torna ancora nuovamente la scultura scheletro gigante di Luigi Calignani il piccolo Prini questo scheletro gigante cosmico questo scheletro di divinità che è messo in punizione come ad espiare le colpe che guarda insomma all'angolo e questa chiesa questo episodio è stato anche oggetto di riflessione di ispirazione di confronto da parte di artisti è artista uno degli artisti più importanti pugliesi ma importante ovviamente a livello mondiale che ancora che l'abbiamo già citato a proposito di Andrea Pazienza ma qui lo citiamo come autore per se stesso Carmelo Bene che già agli inizi già con uno dei primi spettacoli nel 1966 scrive un libro Nostra Signora dei Turchi poi trarrà uno spettacolo teatrale l'anno successivo e che girerà per due tre anni cinque sei per l'Italia e nel 68 addirittura farà anche il film e che appunto Nostra Signora dei Turchi che viene presentata alla Biennale di Venezia provocando scandalo e che però vingerà il premio della giuria ed è un uno spettacolo come diciamo alla Carmelo Bene in cui riscrive la storia attraverso la sua voce e il suo corpo in un rapporto di introspezione psicologica e di rifiuto insomma della cristianità e quindi un rapporto tra paganesimo e cristianità dove rifiuta Nostra Signora dei Turchi appunto a differenza al martirio compiuto da parte dei Turchi prima a Santa Margherita e poi alla Madonna stessa un artista che ha ispirato anche degli artisti visivi almeno in parte come per esempio Luigi Presicce di Porto Cesareo e che siamo sempre appunto nella zona di Otrano di Lecce dell'Eccese con i suoi lavori disegni quadri fotografie ma performance video ne citiamo alcuni come per esempio la benedizione dei Pavoni del 1911 oppure la donazione della cappella del 2011 2011 della donazione della cappella del 2010 in cui si fondano i culti ancestrali come appunto in Carmelo Bene i culti moderni i culti antichi le geometrie massoniche tutto insieme a creare delle immagini delle opere di grande visualità come ad esempio la donazione della cappella è una performance in cui è ispirato agli affreschi di giotto in cui la cappella è una cappella e un'architettura che viene dagli affreschi di giotto quindi in questo discorso di cosmicità di visionarietà totale che attraversa insomma questa regione gli artisti di questa regione in una riscrittura continua come appunto fa Carmelo Carmelo Bene per esempio che si serve sempre anche lui dell'arte nel suo teatro e invece presisce che teatralizza l'arte prendendo gli elementi dell'arte prendiamo per esempio per chiudere con Carmelo Bene Hamlet for Hamlet con le scenografie che sono evidenti richiami la lettura di questo testo shakespeariano dell'essere o non essere questo è il problema in cui la scenografia ha evidenti richiami al mondo berniniano al mondo barocco berniniano che è l'idea del barocco che permea cosmicamente insomma questa regione e questo autore oppure con il Pinocchio il noto Pinocchio di Carmelo Bene che non a caso sceglie questo personaggio di essere rifatto c'era una volta un re diranno i miei piccoli lettori no avete sbagliato che era una volta un piccolo pezzo di legno e questo è l'incipio di Pinocchio ovviamente con cui Carmelo Bene inizio del suo Pinocchio che lui viene proiettato attraverso dei video l'immagine del legno sul suo corpo sul suo volto proprio nell'idea in cui quell'arte visiva ha un ruolo centrale nel nel lavoro di quest'artista ma io direi nella vita tutta e dottor Di Vago Jacinto di Petrantonio vi saluta augurando buona vita a tutti